Buonasera a tutti, benvenuti al consueto webinar del lunedì alle ore 18, con me dovrebbe già esserci anche Enrico Lanati Buonasera a tutti Eccoci qua, bentornati a tutti sugli schermi di investire.biz Oggi abbiamo iniziato una nuova settimana di trading con rinnovato entusiasmo Arriviamo da una serie di giornate davvero epiche perché praticamente il 2016 che è solamente all'inizio è cominciato con una serie di forti ribassi e solamente poi nelle ultime sessioni ci sono stati dei rimbalzi che hanno dato un po' di ossigeno ai mercati Quindi vedremo come comportarci nelle prossime sedute, nei prossimi giorni e nello specifico appunto durante questa settimana La prima cosa che però voglio farvi vedere è appunto questo post, ovvero questo articolo relativo alla giornata che il 10 di febbraio io ed Enrico faremo insieme a Milano Infatti sarà una giornata molto molto bella, si chiama analisi e previsioni sui mercati per il 2016 C'è addirittura un sito dedicato che è tradingdalvivo.com dove potete iscrivervi a questa giornata che grazie al supporto del broker CMC È una giornata gratuita dove però vedremo delle cose molto 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 interessanti Nella fattispecie siccome siete tanti che già vi siete iscritti, tanti scrivete per chiedere informazioni Io vi ricordo che i posti sono limitati, quindi io sono convinto che a giorni toglieremo dal calendario questo evento Quindi mi raccomando se volete venire a conoscerci prima di tutto, a stare una giornata con noi dove parleremo di investimenti per il 2016 Dove tra l'altro Enrico so che abbiamo già preparato anche qualche chicca che terremo proprio in serbo per quelli che ci vengono a trovare Quindi mi raccomando insomma iscrivetevi se potete venirci a trovare, mercoledì 10 febbraio saremo appunto a Milano vicino alla stazione centrale Quindi guardate addirittura sul sito c'è anche il link di Google Maps che vi fa vedere esattamente dove saremo Quindi tra l'altro una location molto carina e interessante Uno sguardo veloce al programma, infatti dalle 9 in avanti parleremo sia di borse mondiali nel 2016 Infatti vedremo cosa aspettarci dai mercati finanziari in questo anno che è appena cominciato Vedremo quali mercati monitorare Parleremo sia di azioni che di forex e materie prime Quindi davvero una giornata imperdibile Poi devo appunto ringraziare, dobbiamo ringraziare CMC che rende disponibile questo per voi gratuitamente Ci sarà tra l'altro con noi anche Mauro Masoni Che è un analista che sicuramente avrete già visto in televisione al canale Class CNBC Dove spesso appare appunto con le proprie analisi Insomma per iscriversi è semplicissimo perché basta che andate qui Cliccate su iscriviti qui Si apre appunto la possibilità di mandarci una mail Dove dovete mettere appunto nome, cognome e numero di telefono Bene, bene, bene Enrico vuoi aggiungere qualcosa riguardo questo evento? No, però ti posso dire che stiamo studiando Alla cremente insomma per trovare dei titoli, delle cose interessanti Insomma non esiste soltanto Cominar della quale abbiamo parlato tempo fa O Banca IFIS della quale abbiamo parlato prima È possibile individuare titoli, situazioni I grossi ribassi come tutti quanti sanno Servono anche per accumulare delle posizioni su titoli Che in realtà scendono di fatto perché scendono le borse Ma in realtà ci sono magari delle realtà virtuose sulle quali investire Quindi insomma sarà una giornata assolutamente da non perdere Spero soprattutto il mio invito è quello di venire e partecipare Visto che siete tantissimi che ci seguite insomma sul nostro sito Anche per conoscerci insomma È un modo insomma per diciamo riavvicinare insomma Quello che è un evento come questo Che è un evento via web Magari appunto un evento dal vivo Esatto esattamente esattamente Quindi mi raccomando partecipate C'è qualcuno che mi dice ho mandato la mail ma non ho ricevuto risposta Stranissimo perché appunto se mandate la mail con tutti i dati Quindi nome e cognome e telefono Ricevete appunto una mail di risposta con la conferma della partecipazione Niente se non l'avete ricevuta rimandatela Oppure mettetevi in contatto con noi via telefono Oppure mandate una mail a Sara Se già siete in contatto con lei Insomma in qualche modo scriveteci Aggiungeteci a Facebook e scriveteci Insomma vedete voi In qualche modo se avete voglia di partecipare siete i benvenuti E come giustamente dicevo prima e poi ha confermato anche Enrico Venite perché abbiamo preparato delle chicche per voi Stiamo e le stiamo ancora preparando E per rispondere appunto a chi me lo chiede No l'evento non sarà registrato Quindi l'unica opportunità che avete è quella di venirci a trovare Benissimo 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 Allora io direi di cominciare dopo questa piccola parentesi Sul nostro evento che faremo Direi di cominciare ad andare a vedere un po' i mercati finanziari Perché siamo tra l'altro appena 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 entrati al rialzo Sull'indice italiano Dove abbiamo fatto questa operazione a rialzo È molto molto interessante Andiamo a vedere un grafico orario Ecco qua Infatti Ecco qua Allora un attimo solo che facciamo un po' di ordine Perfetto Allora siamo entrati qua Proprio ai prezzi attuali Su un livello davvero molto molto interessante Cercando quindi l'obiettivo in questo caso È sfruttare un'eventuale ripartenza Magari anche momentanea Dei prezzi Sul grafico a 4 ore Prima di lasciare la parola ad Enrico Guardiamo una semplice analisi tecnica Ci fa capire come effettivamente su questo grafico Siamo in una zona che potrebbe essere molto interessante Per una ripartenza dei prezzi Enrico quali sono le chance che questo mercato torni Magari in area 20.000 Magari più sotto O magari più in alto Raccontaci un po' com'è la tua visione Indubbiamente il livello al quale siamo entrati È un livello molto interessante Perché rientriamo su un ritracciamento Dopo che c'è stata una spinta rialzista piuttosto forte Dai minimi che avevamo individuato intorno a 17.900 Se vi ricordate bene Quindi c'è stato questo rimbalzo Che ha portato i prezzi oltre i livelli di 19.000 Siamo rientrati nuovamente a 18.660 Da questi livelli Secondo me può starci tranquillamente Con un'apertura positiva nella giornata di domani O con magari le borse americane Che dovessero chiudere su livelli positivi Insomma potrebbe esserci una ripartenza piuttosto importante La cosa interessante è che siamo già a mercato Noi abbiamo messo un target di 600 punti Quindi intorno a 19.200 Vicino a quelli che erano stati i massimi precedenti E uno stop piuttosto stretto nell'ordine di 200 punti Quindi staremo a vedere se questo stop sterrà Alternativamente se non dovesse tenere Secondo me un nuovo livello di ingresso Potrebbe essere sui minimi precedenti Riscontrati sul pre-Draghi per intenderci Quindi prima dell'ultima conferenza di Mario Draghi Magari potremmo vedere una sorta di doppio minimo su quei livelli E da lì potrebbe esserci una ripartenza Detto questo, secondo me il livello al quale abbiamo ritentato Questa operatività a rialzo È un livello secondo me molto interessante Staremo a vedere nelle prossime settimane Ecco, devo fare un mea culpa Enrico Perché secondo me Avendo individuato il livello di 17.800 punti Come target per il movimento ribassista che abbiamo preso Qui siamo stati dei polli a non provare un trade a rialzo E sai qual è stato il problema? Il problema nel mio caso personalmente È stato che speravo che i prezzi crollassero ancora di più Ma qui bisognava provare un rialzo Perché avevamo individuato davvero Cioè se guardate il livello dove poi abbiamo chiuso gli short È stato davvero chirurgico Grazie ai supporti e le resistenze volute Qui un rialzo bisognava provarlo Diciamo che dovevamo giocarci tra virgolette Un pochettino del guadagno fatto sul ribasso Per tentare questo rialzo Però vediamo Vediamo un pochettino Lo stiamo facendo adesso Quindi insomma ci proviamo da questi livelli Insomma secondo me i livelli dai quali siamo entrati Sono livelli interessanti Insomma perché se anche domani dovessimo assistere A una giornata estremamente negativa Secondo me quello potrebbe dar luogo a ributtare le persone all'interno del panico All'interno del Diciamo E quindi questo potrebbe aggravare ancora la situazione Quindi io penso che domani un rimbalzo tecnico ci potrebbe stare Vediamo vediamo Io questa notte come faccio di solito andrò a vedere i mercati asiatici Che sono ancora sotto tensione Perché nonostante i rialzi I rialzi dell'ultima seduta Adesso lo andiamo a vedere Ma sono comunque ancora sui minimi Sono su dei minimi davvero importanti C'è Matteo che ci fa notare che questo potrebbe essere un testa e spalle Verissimo Tra l'altro appunto questo livello su cui siamo entrati È un livello che già in passato Guardate Ha fatto rimbalzare i prezzi I prezzi diverse volte Possiamo anche andare a vedere Siamo su livelli davvero molto importanti Perché guardate qua Siamo sui livelli del 2015 Addirittura 2014-2015 Livelli dal quale poi è scaturito l'inizio del ciclo annuale Quindi sicuramente sono livelli molto importanti Staremo a vedere Ecco diciamo che in questo caso questa è un'operazione corretta da fare Tra l'altro vedo che c'è anche connesso l'amico Marco Di Vita Che urla scrivendo ad alta voce il Forecaster con i punti esclamativi Oramai Marco è diventato un super esperto del Forecaster Oramai ne sa più di me Quindi sono ben contento Perché vedo mi tiene aggiornato sulla sua operatività Quindi insomma sono davvero contento Il Forecaster appunto per le prossime sedute Dà comunque una tendenza rialzista Quindi siamo in linea con quello che dicono i cicli della stagionalità Ti do un dato Luca Ho fatto un rapido conto Non è preciso Non è al centesimo Però guardando questa figura Se effettivamente dovesse configurarsi un testespalle Come hai disegnato tu Quindi una figura di inversione Sarebbe un testespalle comunque leggermente inclinato verso l'alto Quindi diciamo anche più potente per intenderci E il target naturale di quella figura potrebbe essere intorno a 20.400 Quindi comunque un movimento molto molto importante Saranno le rotture fino a Diciamo dai livelli di 19.200-19.300 Che darbbero ulteriore spinta rialzista Quindi speriamo di vedere questo tipo di figura a quel punto Per chi fosse entrato Insomma può anche pensare di gestire la posizione Liquidandone al target che abbiamo dato Attraverso il segnale operativo via email Metà della posizione E il resto magari lasciarla correre Per andare a prendere diciamo livelli più importanti Esatto esattamente Ecco io voglio mettere l'accento su L'errore che abbiamo fatto noi Enrico Perché secondo me è davvero istruttivo E condividere un errore che noi abbiamo fatto Con chi ci ascolta Secondo me davvero aiuta tantissimo le persone L'errore che noi abbiamo fatto è stato Fissarci sul ribasso Ci siamo come A sue fatti Dal fatto che le borse continuassero a scendere E avevamo la speranza che continuassero a scendere Perché la verità È che abbiamo lasciato parlare il nostro ego Al posto del cervello Quindi cos'è che Io l'ho analizzata la situazione Non vorrei sembrare troppo Troppo profondo in questo ragionamento Ma secondo me è importante Perché non siamo andati a rialzo qui Nonostante siamo stati così bravi Da individuare il punto di 17.800 Perché il nostro ego avrebbe voluto Che i prezzi crollassero ancora di più Perché sai che bello Vantarsi negli anni Nel tempo di aver azzeccato Un ribasso storico Sui mercati finanziari La verità è che abbiamo perso di vista Il punto focale Perché il punto focale qui È fare i soldi Quindi in questo caso Giustamente tu dici Guarda che c'è un potenziale rialzo Addirittura sopra i 20.000 L'errore che non dobbiamo più fare È fissarci E pensare Non più a fare i soldi Nel giro di poche ore Barra pochi giorni Ma Appunto Ma dobbiamo Capire che noi siamo qui Per fare trading E quindi Una volta che abbiamo Preso quello che c'era da prendere Portarsi a casa Senza sperare di fare il colpaccio Sei d'accordo Enrico? Assolutamente sì Quindi in realtà su questo Tra l'altro ho visto anche qualche Qualche commento Insomma Vedo che molti sono d'accordo Sul fatto che Appunto Possa arrivare a 20.400 Insomma Quindi bene Insomma bene o male Sono contento Insomma che non soltanto io Vedo una cosa di questo tipo Vedremo Staremo a vedere La giornata di domani Sarà molto importante Secondo me Per capire Che cosa succederà E poi ovviamente Ci sarà il FOMC mercoledì Vedremo se avrà un impatto Questo sui mercati finanziari Esatto 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 Allora c'è Max che dice Eravate troppo distratti Dal cetriolone È vero È vero Ci abbiamo così scherzato Che alla fine Ci siamo affezionati Poi c'è Roberto che dice Ma sul Forecaster Non c'è il MIB Non lo vedo No Non c'è il MIB Magari lo metteremo In futuro Però chiaramente Facciamo riferimento Al DAX Che è comunque Un indice europeo Quindi tendenzialmente Va dalla stessa parte Del MIB Francesca chiede Se si può rivedere Questo webinar Certo Da domani sarà online Come sempre Sul nostro canale YouTube Vi faremo avere il link Domani sul sito Investire.biz Massimiliano dice Beh Enrico Mi sembrava un po' Più rialzista Di te o no È vero Massimiliano Però qui Entro in polemica Perché l'ho convinto Io a mettersi short Per Enrico Che lui aveva anche Delle posizioni Aveva i cippini Al rialzo E mi sono messo Di fianco Gli ho detto Enrico Chiudi ste cazzo Di posizioni O no Per favore Chiudiamo 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 Questo me lo devi Enrico Questo è vero Sì Avevamo quella piccola Posizione Su quel Minifib Che poi alla fine Abbiamo anche chiuso Decentemente Nel senso che Adesso non ricordo Se andate a vedere Le vecchie videoanalisi Probabilmente lo trovate A che livelli L'abbiamo chiuso Però Sicuramente Almeno un migliaio Di punti Sopra i livelli attuali Quindi tutto sommato È andata È andata bene Insomma Poi c'è Morena Adesso ci rimettiamo Scusa Scusa Giusto Giusto C'è Morena che dice Ti sei fatto Vi siete fatti prendere Dal film La grande scommessa Anche Lorenzo Avete visto troppo Il film La grande scommessa È vero È tutto un po' Influito Perché questo film È molto bello Tra l'altro Che vi consiglio Di vedere Uscito proprio Nei giorni In cui noi Predicavamo Il ribasso Insomma Ci siamo Il nostro È stata una Una questione Di ego Guardate Quindi insomma Però dai Abbiamo già individuato Il problema Speriamo di non Di non sbagliare più Quindi Insomma Poi vediamo Qualcun altro Cosa dice Vediamo Un pochettino Franco dice Tutto va fatto A piccoli passi Aggiungendo Altri acquisti Quando le cose Proseguono Nella stessa Direzione Poi ci sono Un po' Di domande Sui cambi Che adesso Andremo Ad analizzare Vediamo Un po' Bene Bene Niente Volevo farvi Vedere Siccome Secondo me È Il mercato Market Mover Come si dice L'indice Cinese Perché Sappiamo Tutti Che Tutto Questo Casino Che è successo Sui mercati Deriva Soprattutto Dai problemi In Cina Problemi Cosa intendo Intendo dire Che la Cina Ha smesso Di crescere Ha dei tassi Di crescita Folli Sta crescendo Solo Attorno Al 6% Che è Molto di più Di tutti gli stati Europei Però Questo non basta Per far contenti Evidentemente Gli investitori Internazionali Che avevano puntato Molto di più Sul Dragone Vi voglio far notare Questo Che siamo Proprio Su un livello Molto Molto Importante Intanto I prezzi Sono stabilmente Sotto il livello Di 3.000 Guardate Questo è un grafico A 4 ore E ora I prezzi Stanno picchiettando Il livello Di 2.900 Io Personalmente Come faccio Sempre Mi espongo Io credo Che Il rimbalzo Che Scaturirà Se ci sarà Un rimbalzo Sugli indici mondiali Sarà appunto Solo un rimbalzo In quanto Credo che poi La tendenza Di questo indice Che porterà Dietro di sé Tutti quanti Sia ancora Ribassista Quindi da qui Ci potrebbero stare Qualche giorno Di rimbalzo Ma La tendenza Personalmente La vedo Continuare A ribasso Almeno Almeno Fino Ai minimi Di settembre Scorso Non so Enrico Tu come La vedi? Non sembra Impostato Particolarmente Bene C'è da dire Una cosa Che comunque Per fortuna Questi livelli Di supporto Stanno tenendo Intorno ad Area 2900 Quindi Insomma In ogni caso Diciamo che Il livello di supporto Più importante È quello posto In area 2006 Se dovesse Essere Violato Anche Quello Ovviamente Assisteremo A un Crollo Dei prezzi Molto più Vertiginoso Però Sono convinto Che interverrà Qualcuno O la banca O il governo Qualcuno Cercherà Di Calmerare La situazione Quindi Io Se proprio Dovessi Prendere una posizione Rialzista La prenderei Dai livelli Di 2600 Quindi Sono convinto Che quel Livello Potrebbe tenere Come livello Di supporto Io Io Sono convinto Che i prezzi Vadano A 2000 Però Io Sono Sono Un po' Catastrofista Io Sono convinto Che Il mercato Stia Scricchiolando E siamo Di fronte A un ribasso Molto Molto Importante Però Ripeto Concentriamoci Sul trading Non È molto Bello Fare Delle Previsioni Perché Insomma Ci si Diverte Anche Però Poi Mi raccomando Si fa Un'operazione Di trading Stop Loss Target Quando si va A target O a stop Si comincia A pensare Ad altro Allora Abbiamo Un attimo Solo Che C'è Una 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 domanda Di Valerio Che tra l'altro Appunto È uno dei primi Webinar Al quale partecipa Ed è un principiante Dice Ho notato Che il DAX Va a direzione Opposta Ad euro Dollar Quindi euro Debole Borse forti Ma per gli indici Americani Perché non è la stessa Cosa Enrico Vuoi risponderci Tu Ma In realtà Ci sono delle correlazioni Che durano nel tempo E che poi nel tempo Addirittura cambiano In questo momento C'è una particolare Correlazione Tra gli indici europei Il DAX In particolare Che rappresenta L'Europa La Germania Comunque A livello di politica Economica È sicuramente Diciamo Il paese più importante E quindi Nel momento in cui Si apprezza Diciamo L'indice tedesco Tendenzialmente Scende Il cross Euro-dollaro Quindi diciamo Sono delle correlazioni Che però possono variare Sulla base Di determinati dati economici Tant'è vero Che quando E' uscito Quando ci aspettavamo Draghi Insomma La settimana scorsa Io ho detto Secondo me Questa correlazione Potrebbe un po' Perdersi Proprio perché Mi aspettavo Un rimbalzo Seppur modesto Da parte di Euro-dollaro Quindi ci sono Dei momenti Nei quali ci sono Forti correlazioni E Dei momenti Appunto dove Queste correlazioni Si perdono Quindi Non è sempre uguale Ultimamente Sta funzionando In questo modo Esattamente Esattamente Nel mentre che parlavi Sono andato proprio Sul grafico Di Euro-dollaro Dove da Qualche settimana Ormai C'è Veramente Bassissima Volatilità È diventato Uno dei cambi Più noiosi Sui quali Fare trading Oggi Hai pubblicato Una strategia Tu Da applicare Alle prossime ore Sul Cambio Euro-dollaro Sì Mi piacerebbe Spiegarla Perché non vorrei Essere frainteso Nel senso che Voi sapete Che noi Vi abbiamo sempre Detto Dovete mettere Lo stop loss Non dovete Far la martingala Chi fa la martingala Perde i soldi Eccetera 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 Oggi io scrivo Esattamente il contrario Poi vi diciamo sempre Mettete Lavorate con sites piccole Tutto il resto L'idea mia È molto semplice Cioè io vorrei Farmi pagare Dalla bassa volatilità Se andiamo a prendere Il grafico Di Euro-dollaro Ci rendiamo conto Di come Negli ultimi Proviamo a prendere Un giornaliero Proprio per vedere La scala Guardate Negli ultimi giorni Eccezione Non fatta per il giorno In cui ha parlato Draghi Dove abbiamo Una candela Leggermente più importante Però guardate Come le variazioni Sono nell'ordine Appunto Le candele sono Molto molto piccole Le vedete Sono candele Oggettivamente Modeste Sia come Ombre Ma anche Come Corpi La quart'ultima Candela È quella che abbiamo Visto durante L'intervento Di Draghi Quindi quella Diciamo con un corpo Piccolo E delle ombre Piuttosto ampie Ma generalmente Vedete Ci sono dei movimenti Oggettivamente Molto Molto Contenuti La mia idea è questa Secondo me Fino a mercoledì Alle ore 20 Che ci saranno appunto L'annuncio Dei tassi di interesse Da parte della Fed E quindi diciamo Il meeting Del Fonk Euro dollar Non si muoverà Potrà muoversi All'interno Di un range Che va Intorno ai 100 pip Al rialzo O al ribasso Secondo me Dobbiamo sfruttare Questa situazione Per fare Tanto trading Con sites Leggermente Più importanti Tanto comunque Secondo me Le variazioni Saranno Saranno piccole Nell'ordine dei 30 40 pip Al giorno Se andate a vedere Magari La TR Vi renderete conto Di quanto Starà calando Nelle ultime ore E quindi Con stop Piuttosto stretti E target Altrettanto stretti Anche in questo caso Secondo me Un rapporto Rischio-rendimento Uno a uno Va benissimo E secondo me In una fase Come questa Si può tranquillamente Anche incrementare Il Diciamo Le posizioni Qualora appunto Qualcuno volesse Mediare al ribasso Tanto sono convinto Che i prezzi Sono destinati A tornare Indicativamente Sulla media Mobile Che si utilizza Quindi si può usare Secondo me Anche un grafico A 5 minuti Con Magari Una media Mobile Che Tra gli 8 E i 12 Periodi Quindi insomma Una media Mobile Molto Molto Veloce I prezzi Secondo me Nel momento In cui si Discostano Dalla media Mobile Poi tenderanno A tornarci Bene 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 Allora C'è Massimiliano Che mi chiede Ho sentito prima Che mandate Il segnale Via email Potrei sapere I costi Grazie Guarda Trovi tutto Sul nostro sito Internet Investire.biz Nella parte Servizi premium Segnale operativi Via email Quindi Semplicissimo Trovi Tutto Quanto Qui La spiegazione Di come Fare Per riceverli Anche Gratuitamente Poi c'è Franco Che ci dice Intanto il petrolio Se ne sta Ritornando A meno 5% E anche Questo Sul Sul Crude oil C'è Una Bella Volatilità In questi In questi Periodi Questo è un Grafico A 5 minuti Vediamo un Grafico Orario Per vedere Un po Meglio La situazione Vederla Un po Più Da Lontano Qui Abbiamo Avuto Una Bella Ripartenza Da Livello Di 28 Più O Meno Dollari A Barile Siamo Arrivati A 33 Adesso C'è In corso Un Ritracciamento Che è Molto Simile Al Ritracciamento Che Hanno Fatto Le Borsi Infatti Anche In Questo Caso Stiamo Parlando Di Un Mercato Quello Del Petrolio Che Un Assoluto Market Mover Cinese Sono Proprio Le Cose Che Stanno Facendo Muovere I Mercati O In Su O In Giù Quindi Vediamo 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 Un Pochettino Allora Sul Petrolio Se posso Aggiungere Luca Ti posso Dire Che Noi Su Questo Siamo Stati A mio Avviso Molto Bravi Perché Siamo Riusciti A Togliere Diciamo La Cosiddetta Volatilità Legata Proprio Lo strumento Del petrolio E lavorare Sugli spread Sugli spread Su strumenti Molto correlati Avevamo Detto Se ci avete Seguito Nelle ultime Settimane Chiuderemo L'operazione Con almeno 2000 Dollari Di profitto Bene In questo Momento Siamo a 1980 E allora Chiudiamola Ah beh Se la vogliamo Chiudere Di fatto Ecco Questo è stato Secondo me Un bellissimo Trade Mi è piaciuto Tantissimo Intanto che io Chiudo l'operazione Raccontaci Anche per tutte Le persone nuove Che ci seguono oggi Che cosa è stato Fatto qui E cosa vuol dire Fare questo tipo Di operazione Allora C'è un articolo Che ho fatto Dove vedete Addirittura I due grafici Vicini Quello del Brent E quello del Penso che sia Su spread trading Giusto Ecco qua Vedete L'11 gennaio Quindi una quindicina Di giorni fa Abbiamo fatto vedere Proprio come I massimi E i minimi Erano differenti Insomma Su questi strumenti Che però Erano molto correlati E addirittura Il Brent Veniva a quotare Che è un petrolio Di maggior qualità Meno rispetto Al Meno rispetto Al VTI Quindi Il petrolio americano Questa era un'inefficienza Decisamente Anomala E quindi Ci sembrava intelligente Fare un'operatività A rialzo Sul petrolio Di maggior qualità Che costava meno Rispetto al petrolio Di minor qualità Che aveva un prezzo maggiore Di fatto Le cose si sono sistemate E In questo momento Il petrolio inglese Torna a quotare Di più Rispetto al Petrolio americano Qualora La situazione Dovesse cambiare Quindi dovessimo Tornare In una situazione In la quale Il prezzo del crude oil Quindi oil US crude Fosse superiore A quello del Brent Questa è un'operazione Che si può tranquillamente Riproporre Bene Un rispetto Molto modesto E un rendimento Portiamo a casa Allora Sì Ecco Chiudiamo No no Va benissimo Voglio Chi si lamenta Chiudiamo Ecco qua Appunto E' importantissimo Quando si fa un'operazione In spread trading Chiudere Entrambe Le gambe Mai Mai e poi mai Lasciare Solamente una delle gambe Aperte Perché altrimenti Non si Non si Tratta più di spread trading Ma diventa un'operazione Direzionale Quindi mi raccomando Bene Bene Complimenti Enrico Che avevi scovato Quest'opportunità Che ci ha fatto fare Qualche soldino Che non è male Soprattutto perché Con lo spread trading È un po' più noioso Come tipo di trading Cosa che tendenzialmente Corrisponde poi Con una volatilità Dei profitti Inferiori Quindi insomma Niente male Sì Un trade che è durato 15 giorni Diciamo Sono quei trade Che piacciono a me Di medio periodo Diciamo insomma Di breve periodo Però comunque Trade interessanti Sulle inefficienze Quindi Questi purtroppo Sono trade A mio avviso Non semplicissimi Per chi Magari non fa trading Da tanto tempo Però in queste opportunità Si trovano Delle Delle ottime Delle ottime opportunità Insomma In queste inefficienze Esatto Staremo a vedere Se si creerà di nuovo Se andate a vedere Indietro su investire.biz Probabilmente negli articoli Di 6-7 mesi fa Si era creata Una differenza Di circa 10 dollari Tra il Brent E il Light Club Quando erano A prezzi molto diversi C'era un articolo Anche allora E anche allora Avevamo fatto Quest'operazione Bene 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 C'è Maurizio Che dice Luca ti do del tu Perché hai qualche anno Meno di me Non c'è problema Anche se ne avessi Meno di me Puoi darmi del tu Ci mancherebbe Anche a Enrico Gli potete dare del tu Anche se lui è dottore Dicevi Mi pare Che dicevi Che tempo fa Di seguire i cicli Lo fai ancora? Guarda Maurizio Si assolutamente Tra l'altro Appunto I cicli Li seguiamo Anche grazie al Forecaster Che è proprio Un software Che attraverso Lo studio Dei cicli Quindi della stagionalità Ci permette di fare Anche delle previsioni Quindi assolutamente Si Allora Vediamo Un pochettino Vediamo se ci sono Altre domande Esatto Esatto Esattamente Poi c'è Insomma Siete tanti Che mi state scrivendo Quindi adesso Passiamo a vedere Un pochettino Di nuovi mercati Perché c'è una posizione Che testa molto interesse Se è Audi Usd Che è una posizione Appunto Che abbiamo Inserito In piattaforma Proprio in seguito A uno studio Fatto con Il Con il Forecaster Siamo entrati Short Insomma È una posizione Molto interessante Che abbiamo Appunto Aperto Proprio perché Il Forecaster Ci dava Delle previsioni Di Ribasso Come la gestiamo Adesso Questa posizione Enrico Tu sai che Io nonostante Quello che Si possa pensare Sono un rialzista Di dollaro Quindi In realtà Io sono Convinto Che il dollaro Si debba apprezzare Questo Deve avvenire Fondamentalmente Nei confronti Di quasi tutte Le altre valute Quindi L'essere short Di Audi Westin Un momento Nel quale Non ho posizioni Arrivasso Su euro Dollaro È una cosa Che mi piace Che vorrei portare Diciamo Vorrei cercare Di far correre Questo tipo di operazione Quindi A mio avviso Si può mettere Uno stop Sopra I livelli precedenti Intorno a 0,70 e 50 Giusto per dare Allo strumento Insomma A modo di potersi Muovere Di poter ritornare Sui livelli I quali avevamo Shortato Però i target Devono essere Sotto il livello Di 0,69 Quindi cercare Di fare Un bel movimento A ribasso Bene 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 Quindi secondo me Scenderà Questo strumento Quindi mi piace Il trade Lo vorrei Lo vorrei mantenere In portafoglio Bisogna gestire La posizione Ma sono convinto Che il dollaro Si apprezzerà Insomma Nel medio termine Quindi mi piace Molto bene Infatti quando poi Corrisponde Analisi fondamentale Analisi tecnica E forecaster Sappiamo che Si fanno Delle belle 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 Operazioni Parliamo di materie Prima Andiamo a vedere Il gold In questo caso Stiamo avendo Delle ottime Soddisfazioni Perché anche in questo caso Con La partenza Dalla zona Di 1060 Circa Dove Abbiamo individuato Proprio La La svolta Al rialzo Dei prezzi Siamo già Intorno Abbiamo già Toccato Anche il livello Di 1110 Anche in questo caso Se andiamo a vedere Un grafico a 4 ore Sembra proprio Che si stia Formando Una specie Di figura Di continuazione Personalmente Mi piace Mi piace davvero Molto Questa 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 figura Tecnica Che si sta creando Anche la base Di accumulazione Molto molto interessante A quando Enrico Un arrivo A 1150 Secondo te Ci arriva Guarda Non è da escludere Io faccio un ragionamento Più semplice Di quello che Che possa sembrare Nel senso che Noi abbiamo messo Tempo fa Un ordine di vendita A 1124 Chi segue i trading live Chi segue i webinar Del lunedì Lo sa Io quell'ordine Ce l'ho ancora In macchina Quindi Io sono dell'idea Che da 1124 Si possa riniziare Un ottimo livello Un ottimo livello Da shortare E poi ovvio Può raggiungere Come fai vedere tu Il livello di 1130 Ci mancherebbe Indicativamente Però quello Secondo me È un bel livello Al quale Mettersi in short Guarda A me piace molto Questo Questa configurazione Grafica Infatti vorrei Spenderci Qualche Parolina C'è anche Davide Che dice Testa e spalle Rialzista Da manuale Direi In verità Questo è un bellissimo Caso di doppio Testa e spalle Perché abbiamo Questo Grosso Testa e spalle Che vediamo qui Che ho evidenziato E poi È un testa e spalle Frattalico Diciamo Perché all'interno C'è un testa e spalle Un po' più piccolino La caratteristica Interessante Di questo Di questa Configurazione Grafica È che Essendo Questo Che sto Evidenziando Adesso È una Fotocopia Di quest'altro Che sto Evidenziando Adesso Di quello Più grande Noi di fatto Sappiamo già Come Teoricamente Si muoverà Questo testa e spalle Grande Ok Perché abbiamo Già visto Appunto Che quello Piccolino Che è una Fotocopia Che è una Specie Di Frattale Appunto È una Figura Molto Molto Simile Appunto Ha già Rotto Al rialzo La linea Del collo Ha già fatto La sua Sparata Quindi È molto Probabile E appunto Il target Naturale Di questo Di questo Movimento Sembra proprio Essere L'area Di 1130 Chiaramente Giustamente Come hai detto Te Noi abbiamo Già degli ordini Short Che avevamo Posizionato Lì Prima Li teniamo Perché Comunque Insomma Siamo Siamo Messi Messi Bene Ecco Se i prezzi Dove Sì Perché Erano Dei Livelli Che avevamo Individuato Appunto Attraverso Lo studio Di livelli Di resistenza Di supporto Precedenti Quindi In realtà Era un livello Calcolato Quello Che ci sembrava Interessante Ci mettete Che L'euro Secondo me Non sarà Fortissimo Nei confronti Del dollaro Potrebbe Questa figura Non completarsi Quindi Di fatto Fermarsi Un 4 5 Dollari Prima Di 1130 Torniamo Nuovamente A 1125 Quindi Bene o male Più o meno Si trova Tutto Esatto C'è Luca Che chiede Si potrebbe Andare Long Fino lì Guarda Sì Sicuramente Non ti dimenticare Però Di mettere Degli stop loss In questo caso Io come opererei Prima di tutto Se il mio obiettivo È andare Da qui Dove siamo adesso Fino a 1130 Sicuramente Devo fare Delle operazioni Più Di breve respiro In questo caso Quindi mi sposterei Su un grafico Orario E Semplicemente Attenderei La formazione Di due o tre Candele Negative Vorrei vedere I prezzi Arrivare su un supporto Interessante In questo caso Ecco Potrebbe essere Questo livello A 1103 Ecco A 1103 Farei un'operazione A rialzo Per sfruttare Un arrivo Sopra i 1110 Ecco Però Chiaramente L'ideale Secondo Il nostro Modo di lavorare Era Già essere Dentro Long In questa Operazione Però Non ci sono Problemi Chiaramente Si diminuisce Il time frame E si cercano Dell'opportunità Se si vuole fare Un po' più Di trading Si può inserire Anche 15 minuti Anche se io Non lo consiglio Così tanto Ma Per esempio Sul grafico Orario Si possono Anche inserire Degli indicatori Come può essere Per esempio Uno stocastico Piuttosto che Un RSI E attendere Appunto Che ci sia Un momento Di per venduto Quindi con Una fase Dove i prezzi Potrebbero Vediamo Per esempio Mettiamo uno stocastico Giusto per farvi capire Ecco qua Lo settiamo Con i parametri Che a me piacciono Tanto 553 Perfetto Ecco che In questo caso Da qui Fino al rialzo Che ci aspettiamo Nella zona Di 1130 Ogni qualvolta I prezzi Sono in una fase Di per venduto Quindi nella parte Bassa di questo Canale Si può provare A fare un'operazione A rialzo Mi raccomando Però sempre 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 Lo stop loss In macchina Questo è Importante Ecco di norma Quando ci sono Delle figure Tecniche così belle Come questa Che stiamo vedendo In questo momento Spesso Succede Avviene un test Proprio come giustamente Ha fatto vedere Luca Sulla linea del collo Quindi i prezzi Dovrebbero A mio avviso Ritornare Magari facendo anche Uno spike Sulla linea del collo E quindi poi Da lì avremmo Rapporti rischio Rendimento Infinitamente più favorevoli Perché potremmo Mettere uno stop Appena sotto Intorno a 1190 Cercando di andare A prendere un profitto Di maggiore Insomma Con un rapporto Rischio rendimento Di 1 a 3 Quindi un rapporto Molto molto favorevole C'è Massimiliano Che ci dice Vi devo dire Che io sono ancora long Da quando siamo entrati Da quando siete entrati voi Quindi grazie 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 ancora Grazie a te Che ce lo fai sapere Noi siamo contentissimi Quando c'è qualcuno Che ci ascolta Perché la verità È che Chi ci ha ascoltato Nell'ultimo periodo Ha guadagnato parecchio Il problema È sempre lo stesso Ovvero Che tantissime persone Magari fanno l'operazione Ma poi Nel momento in cui Hanno pochi euro Di guadagno La chiudono E tendenzialmente Poi magari Tengono le operazioni Che vanno in perdita E non eseguono Gli stop loss Quindi Sono dinamiche Che conosciamo bene Se tu sei entrato A mille Nella zona di Mille e sessanta Quando avevamo visto Quest'operazione assieme Siamo Siamo ben 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 contenti E ci fa solo Viacere Noi siamo entrati A mille e ottantotto Che comunque Insomma È un ottimo È un ottimo livello Visto appunto La posizione Insomma Comunque È un ottimo livello Insomma Abbiamo già fatto Quasi 13-14 dollari Dai livelli di ingresso È un ottimo trade Bene 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 Allora Andiamo a vedere Un po' di cambi Perché c'è Molto interesse Sul Cambio USDCAD Quindi adesso Lo andiamo a prendere Qui Vediamo un pochettino USDCAD Un cambio Davvero molto Molto interessante Andiamo a vedere Un giornaliero Per vedere un po' La situazione Perché Enrico Qui C'è stato Sicuramente Un movimento Verso il basso Davvero molto Molto importante Sappiamo che Questo è un cambio Che si muove Specularmente Con il petrolio A che punto siamo Qui C'è stato Questo movimento Da 1,46 Fino a 1,41 È un'inversione Di tendenza Oppure È destinato a fare Nuovi massimi Questo Cambio Ricordo Al momento Facci un'analisi Sia dal punto di vista Tecnico Che fondamentale Ecco Diciamo che dal punto di vista Non ci sono Avvisaglie Per Per le quali Questo cross Si debba fermare Al momento Nel senso che Se è vero Che è correlato Inversamente Con il prezzo Del petrolio Noi siamo convinti Che il prezzo Del petrolio Nel breve Non si Diciamo Non si apprezzerà Quindi in realtà Se il petrolio Dovesse scendere E questa è un po' La visione di tutti Dovuta a tutto Quello che sappiamo Alle sensazioni Sull'Iran Che sono state tolte Insomma La produzione Che non sembra Voler Diciamo Diminuire Tutto il resto I prezzi del petrolio Non saliranno Nel breve E quindi Neanche questo cross Secondo me Potrà scendere Nel breve Quindi L'operatività Da preferire In questo momento È sempre Comunque Al rialzo C'è stata Un'ottima opportunità Quando questo strumento Ha ritracciato E Al momento Appunto Qualora dovesse tornare Magari in area 1.40 Potrebbe essere Un ottimo livello Per riprendere Nuove posizioni Rialziste Bene Bene Quindi diciamo Dal punto di vista Macroeconomico Questo è un cross Destinato ad andare A fare nuovi massimi Quindi tornare Nuovamente Fino a 1.45 Dal punto di vista Diciamo Legato all'analisi tecnica È vero C'è stato Questo andamento Fortissimo Esponenziale Quindi potrebbe Eserci un ritorno Però sicuramente Le trendline Che hai segnato Potrebbero Sorreggere I prezzi Quindi insomma Se dovesse Crollare Questo cross Potrebbero Qui signori Siamo di fronte A un cambio Che quando Veramente Girerà Veramente Girerà In maniera Violenta Perché il movimento Parabolico Che sta facendo È tipico Di un momento Speculativo Tant'è che noi Con il titolo Cominar Ci siamo messi Al rialzo Sul dollaro Canadese Quindi siccome Però è un'operazione Di lungo termine Non ci interessa Se abbiamo Beccato il massimo Ma ci interessa Entrare in una zona Dove sicuramente Il dollaro Canadese È sottovalutato E diciamo Che secondo noi Siamo riusciti A individuare Veramente un ottimo Investimento Con 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 le Cominar Quindi Bisogna capire Quando Ecco perché potrebbe Tranquillamente andare A 1.50 E nessuno Glielo vieta Sicuramente Quando la prima Di queste trendline Verrà rotta Probabilmente Sarà Proprio l'inizio Della fine Tra virgolette Che poi per noi Sarà l'inizio Perché speriamo Che questo grafico Cominci ad andare Verso 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 Il basso Quindi Molto interessante C'è Un attimo solo Che mi sono perso La domanda Un attimo Che me la sono persa Un attimo solo Dov'è 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 Ecco qua C'è Fabio che dice Ma delle azioni italiane Non parlate mai Fabio Facci qualche domanda Che se siamo Al corrente Della situazione Del titolo La vediamo Molto molto Volentieri Di azioni Parliamo Assolutamente Ultimamente Ne abbiamo parlate Tanto Abbiamo anche visto Ultimamente Come Nella Totale Crisi Del settore Bancario Il titolo Che noi Già abbiamo Individuato Oramai Più di un anno Fa Vada benissimo Infatti lo possiamo Far vedere Un attimo solo Sarebbe bello Chiedere A chi Comprò Il Il report Che facciamo Su quel titolo Chi ancora Ce l'ha in portafoglio Insomma Quindi Io Ce l'ho ancora In portafoglio Esatto Andrea Dice che ce l'ha ancora In portafoglio Bene 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 Insomma Vuol dire che avete speso bene Quei 59 euro Esatto Esattamente Quindi di azioni Di azioni Parliamo Assolutamente Casomai Appunto Per Chi fosse Interessato A Qualche Parere Su qualche Titolo Specifico Dato che siamo Già verso La chiusura Del webinar Fate un articolo Su investire.biz Dove dite la vostra E poi Noi assieme a tutte le persone Che leggono il sito Commenteremo Commenteremo Marco Le Ha vendute Le IFIS Guadagnando 1000 euro Benissimo Poi c'è Generali Dice Mauro Sta toccando Un ottimo Supporto Vediamo Poi c'è Andrei Che chiede Lumi Su Euro GBP Adesso andiamo A vederlo Benissimo Paolo Fa un commento Molto interessante Con la bad bank E la Merging and acquisition I bancari dovrebbero risalire Alla grande Benissimo L'importante Paolo Secondo noi È sempre Rimanere su dei titoli Con dei fondamentali Molto molto buoni E nel caso specifico Banca IFIS È sicuramente Uno dei titoli Con i fondamentali Migliori Nel settore Bancario Del bel paese Questo è assolutamente Se posso aggiungere una cosa Nelle operazioni Di margin and acquisitions Quello che è il titolo Che viene premiato È tendenzialmente Il titolo che vale meno Quindi è sempre La banca grande Che fa gocita Quella piccola E il premio Viene pagato Agli azionisti Della banca piccola Quindi tendenzialmente I maggiori rialzi In fase di margin and acquisitions Avvengono sui titoli Più piccolini Quindi sulle banche Più piccole Cioè se intesa Dovesse per intenderci Acquisire una banca Molto piccola Intesa probabilmente Avrebbe un Diciamo Un movimento negativo Di un 2% Mentre invece Magari la banca Più piccolina Avrebbe un rialzo Molto più significativo Quindi questa è la prima cosa Dobbiamo sapere Sui margin and acquisitions L'altra cosa Sicuramente La creazione di una bad bank Potrebbe Dare nuovo Spirito Nuova forza A tutto il settore bancario L'Italia ne ha Oggettivamente bisogno C'è da dire Che anche tra i vari titoli Ci sono dei titoli virtuosi E altri che lo sono Molto meno Quindi anche lì Come diceva giustamente Luca Dobbiamo selezionare I titoli più virtuosi Anche nel settore bancario E investire su quelli E ce ne sono Insomma in Italia Di ottime realtà Come questa Che sta facendo vedere Luca Che io non ho ancora In portafoglio Ma Luca sa Che ho appena appeso Un foglietto di carta Con i 6-7 titoli No perché Questa cosa è successa Veramente Abbiamo Ho fatto Ho da fare Diciamo Un investimento Importante E quindi in realtà Ho messo su un foglio di carta I 6-7 titoli italiani Che mi piacciono di più Tra l'altro magari Alcuni di quelli Li faremo anche vedere Durante l'evento Trading Diciamo con CMC Markets Del 10 febbraio E quindi Sto attendendo Banca Generale Al varco Insomma Quando Dovesse ricalare Ancora magari Un 3-4% Entrerò con forza Su questo titolo Questo è un titolo ottimo Banca Generale Visto che ci avete chiesto Qualche parere Sui titoli È sicuramente Uno dei titoli Top 10 Del mercato Del mercato Azionario italiano Ed è un'ottima Ottima Ottima Banca Insomma Tenetela d'occhio Mi raccomando Se siete interessati Ad imparare A valutare I titoli Sul mercato Non solo Il mercato italiano C'è un bellissimo Corso Che ho fatto io Che si chiama Appunto Come investire In Come investire In azioni Questo è veramente Un bellissimo Corso Che in maniera Semplice Vi spiega Come Come appunto Valutare Come capire Se il titolo È buono O non è buono Ma soprattutto Vi spiega Come andare Alla ricerca Delle opportunità Facendosi Utilizzando Tutti gli strumenti Che ci sono Gratuitamente Sul web C'è anche Riccardo Che dice Molto bello Quindi immagino Che abbia seguito Questo corso Roberto dice Concordo È molto Molto Semplice Insomma È un Corso Che se siete Appassionati Di titoli Secondo me È importante Che voi Facciate Perché Per quanto L'analisi tecnica Sia utile Sia potente Sia molto Interessante Da usare Quando si parla In particolare Di azioni Bisogna assolutamente Dare un occhio Ai fondamentali Perché Chiaramente Sono i fondamentali Che guidano Poi i rialzi O ribassi Del titolo Ed è molto Interessante Poi perché Appunto Conoscere I fondamentali Di un'azienda Vi permette Di affrontare In maniera Completamente diversa I momenti Magari di tensione Come i giorni Di ribasso Che abbiamo Appena 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 Vissuto C'è Paolo Che ci chiede Che dite Di MPS Di MPS Non ne parliamo Perché Noi tendenzialmente Parliamo Dei titoli Quando c'è Da parlarne bene Di MPS Siamo in silenzio stampa Ne parlano già tanto I telegiornali Quindi Non Vogliamo Astenerci Da questa Caccia Alle streghe Francesco chiede Con i G Si possono tradare le azioni? Sì assolutamente Tra l'altro con la piattaforma DG È possibile Operare anche In leva Quindi insomma Con tutti i vantaggi E gli svantaggi Del caso Però questo Non sta a noi Non sta a noi Dirlo Cosa vuoi vedere Enrico? Passiamo a vedere Qualche cambio Forex Sì sì Ma andiamo a vedere La sterlina Che abbiamo mandato Un Un ordine Questa mattina Che non è entrato Quindi rispondiamo Anche a chi ci ha chiesto Ma non è entrato L'ordine Questa mattina Era un pendente Quindi ovviamente Il pendente entra Se i livelli Vengono colpiti Cerchiamo di fare Un'analisi puntuale Su questo strumento Esatto Ecco qua Tra l'altro Guardate che IEL Adesso io non è che vorrei dire Ma veramente Per poco Adesso Comunque La Niente Quello era il livello Al quale avevamo inserito L'ordine Non ci è arrivato E poi è ripartito Bene Insomma La sterlina Non sarà forte Questo l'abbiamo detto Più volte Ogni qualvolta Dovesse ritracciare Secondo me È buono Da comprare A rialzo Euro contro sterlina Quindi Ci sta Io lo lascerai in macchina Questo Mi sembra Mi sembra Un buon livello Ovvio Che se dovesse Crollare Euro dollaro Probabilmente anche questo Verrebbe giù Un attimo Quindi mi raccomando Fate attenzione Mercoledì Si muoverà Euro dollaro Alle ore 20 Si muoverà Euro dollaro Si muoverà anche Euro sterlina Che è abbastanza correlato Una cosa interessante Non ne parliamo Da un po' di tempo La strategia 9924 O meglio I settaggi Della strategia 9924 Secondo me Potrebbero essere Interessanti Per vedere Su queste Correlazioni Si vengono a creare Delle discrepanze Dei disallineamenti Insomma Quindi potrebbe essere Utile da utilizzare In questa fase Almeno i settaggi Quindi le bande di Mollinger Modificate E il discorso Legato alle correlazioni Esatto Esatto C'è Massimiliano Che mi sfotte Dice Luca domani Quando lo sa Stefano Si fa due risate Perché con Stefano Stefano Durante i Forecaster live Mi prende sempre in giro Dicendomi che io Voglio sempre Entrare a sconto Mentre lui Utilizza Di più Delle strategie Di rottura Quindi Attende Che ci siano Degli indicatori Particolari Che rompono Al rialzo E di conseguenza Entra Entra Al rialzo Però insomma Sono due stili Di trading Un po' diversi Io Tendo a Appunto Trovare Dei prezzi Più scontati Ed entrare Con Con uno sconto C'è anche Il buon Marco Di Vita Che mi Che mi prende Un po' in giro Perché dice Ah io vi ho anticipati Domenica e sera Entrando a 75 65 Bravo Marco guarda che tu Devi stare attento Perché Stai veramente Mettendo tante Aspettative Su questo corso Che farai Appunto Sul Forecaster Io Mi hai fatto Vedere Ci hai fatto Vedere I risultati Ho visto La passione Con cui stai Preparando Questo corso E ho deciso Abbiamo deciso Di darti fiducia E farti fare Questo corso Guarda che se poi Fai una cacata Però È l'ultima volta Che la fai Con noi Quindi mi raccomando Speriamo che L'aspettativa Di questo corso Poi venga Ripagata Appunto Dalla qualità Del tuo corso Infatti vedi C'è Morena Che dice Bravo Mauro dice Voglio vedere Marco Meglio per te Se funziona Poi c'è Mauro che dice Sì ma sarebbe Bello avere Anche la registrazione Al prezzo Di iscrizione No Mauro Se tu vuoi Il prezzo Il corso Che costa poco Ti iscrivi subito E avrai anche La registrazione Ma non Non funziona così I nostri corsi Aumentano di valore Dopo che vengono fatti Quindi In generale Facciamo sempre così Francesca dice Ma perché Devo pagare Io ho il conto IG Sì perché Questo sarà un corso Che esula Dai servizi Standard Poi c'è Luca Che dice Ma poverino Enrico Non ho capito Perché Sto parlando Di Marco Di vita Non di Enrico Quindi Poi vediamo Poi c'è Riccardo Che dice Io credo in Marco No ragazzi Allora Ve lo dico Seriamente Ci sta mettendo Una cosa importante Una cosa importante Luca Roberto invece Ci ha chiesto Se invece avrà la registrazione Se lo acquista prima Si lo puoi acquistare prima Roberto E avere la registrazione dopo Assolutamente Quindi per tutti quelli che non possono Seguirlo in diretta Come al solito Se vi iscrivete Potete partecipare al corso in diretta E quindi fare anche le domande Se non partecipate Perché non potete O ad ogni modo Avrete la registrazione Se invece non vi iscrivete E in futuro vorrete la registrazione Costa semplicemente di più Ora quindi Proprio velocemente Abbiamo deciso di dare questa opportunità A Marco Di fare questo corso Perché davvero abbiamo visto La passione che sta mettendo In uno strumento Che abbiamo creato noi Ma abbiamo capito Solo dopo averlo fatto Che ci sono tanti modi Per interpretarlo E siamo convinti Visto che ci sta facendo vedere I risultati che ottiene Che sicuramente sarà qualcosa Qualcosa Di positivo Bene 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 Leonardo apprezza il fatto Che Marco si esponga Insomma vediamo Al massimo Se fa un corso di merda Poi Lo insultiamo pubblicamente Ecco Poi Vediamo Vediamo Dai a parte gli scherzi Sicuramente sarà un bel corso Ne approfitto Dato che stiamo parlando Degli eventi Di investire.biz Per ricordarvi appunto La pagina Degli eventi Che è questa Che potete vedere Appunto qui Vi mando il link Che è Investire.biz Slash webinar Domani abbiamo Il Forecaster Live Appunto sponsorizzato Da Swissquot Con Stefano Gianti Ci divertiamo un sacco A fare questo Questo appuntamento E per adesso Appunto anche con Stefano Abbiamo visto Che Insomma Che lo strumento Forecaster È davvero interessante Poi abbiamo Scalping sugli indici Con Marco Martinelli E poi Domani No Dopodomani Alle 21 Abbiamo scuola guida Del trading online Questo qui è un corso Per assoluti neofiti Quindi se già siete capaci Sapete già che cos'è Una piattaforma di trading Per favore Non vi iscrivete Matteo Parlo soprattutto con te Se ti vedo partecipare A questo corso Veramente Ti sconnetto Perché Non devi partecipare Perché tu che hai fatto Il vivere di trading Se ti vedo partecipare A questo corso Veramente Ti ammazzo Ok Vedi che mi dice Cazzo vuoi Mettendo la faccina Che ride No È alle 21 Di sera Questo corso Quindi mi raccomando Cioè È un corso Veramente Base 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 Che io ho organizzato Soprattutto Per i miei amici Che hanno visto Le borse crollare E adesso vogliono Fare tutti i trading online Io ho provato A cercare di Di dirgli No ma non fate Non fate trading Non fate trading Ma allora ho detto Vabbè Se proprio qualcuno Vi deve insegnare Che cos'è Meglio che sia io Poi abbiamo Il trading live Il giorno 28 Con Enrico Posso dire Una stupidata No Sai che Tu gli hai detto No ma non fate trading Non fate trading Non fate trading Mi ricollego All'articolo Che hai fatto oggi Legato appunto Al tuo libro Esatto E i tuoi amici Giustamente pensano Che tu gli dica così In modo tale Che poi dopo Andate a leggere L'articolo E capirete Esatto 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 Perché poi vogliono Perché noi Anche durante il giorno Comunque facciamo articoli Aggiorniamo le nostre posizioni Quindi tendenzialmente Diciamo tutto quello che facciamo Ecco poi mandiamo via Mandiamo via email I segnali un po' più importanti Però chiaramente poi Noi ci teniamo Che voi diventiate Autonomi E appunto Ci teniamo Che alla fine Voi non siate Dipendenti Da noi Ma appunto Riusciate a gestire Al 100% Le operazioni Le operazioni In autonomia C'è Luca che dice Ci saranno dei corsi Anche su analisi tecnica E sugli indicatori Guarda Caro Luca Ti invito Ad andare Sul sito www.formazionetrading.com Dove trovi Tanti Dei nostri corsi Che abbiamo fatto in passato E ce ne sono Proprio due Molto belli Che ti faccio vedere qua Ecco qua Le figure Dell'analisi tecnica E gli indicatori Dell'analisi tecnica Quindi qui li trovi Sono disponibili Quindi Insomma Puoi Puoi già Comprarli E guardarteli E studiarli bene Bene Signori Io vi ringrazio Grazie Enrico Per questo webinar Grazie mille E ci vediamo Appunto Nelle prossime occasioni Non saluti oggi Enrico Cos'è? No no Ho detto grazie a tutti Mentre Non l'avevo sentito Non l'avevo sentito Vabbè dai Buon trading a tutti Ciao Ciao a tutti ragazzi È sempre un piacere Stare con voi Ciao